buongiorno amici oggi andiamo a vedere l'unboxing del galaxy watch 6 poi come al solito lo proverò testerò e ti porterò una recensione sul canale tutto dopo la sigla eccoci qua apertura con le linguettine rimovibili stile apple una e se riesco a prenderla due apriamo allora qua troviamo non lo so vediamo subito cosa troviamo libretto di istruzioni che non ho mai capito il senso perché poi alla fine non ci sono istruzioni e dall'altra parte troveremo mi auguro il cavetto di ricarica eccolo qua magnetico bello fatto bene alluminio sì e type c dall'altra parte bello eccoci ecco l'orologio basta non c'è ovviamente nient'altro qua sotto troviamo i sensori cinturino a sgancio rapido rapido basta schiacciare qua il pulsantino e si possono sganciare se uno ci riesce ecco qua fatto vedete pulsantino fa rientrare i piccanelli di lato e si può sganciare in maniera rapida il cinturino e allo stesso modo inserire in maniera altrettanto rapida fatto bene display questo è 40 mm sensoristica come dicevamo poc'anzi e due pulsanti qua troviamo microfono e alto parlante altri microfoni tutti intorno lo accendiamo ecco che si sta accendendo qua ricarica magnetica come vi dicevo quindi basta appoggiare dietro la base a ecco ottima ottima come tiene bene porca miseria magnetico e bello resistente contrariamente del cadere la carica magnetica del pixel che ho qua al polso perché è veramente molla invece questo è proprio strong cosa che sto già notando che il bracciale vedete non scende giù tutte è abbastanza rigido ora mi tolgo il pixel col polso vi faccio vedere cosa intendo vedete fa vedete qua fa un arco che di conseguenza non ti permette anche se un 40 min 3 piccolo di stringersi più di così io ho un polso molto piccolo 16 mm vediamo come vista al polso cinturino che si chiude in questa modalità che poi si rinfila dentro la parte in eccedenza quindi non svolazze non da noia no vabbè direi che al polso va bene anche se vedete questa cosa che vi dicevo fa sì che rimanga abbastanza lasco qua e non abbracci in maniera così perfetta il polso come mi piacerebbe di più che facesse andiamo ad impostare la lingua chiamo non il lituano ma l'italiano vediamo se avvicinando l'orologio al mio telefono succede qualcosa se lo ritrova in automatico come succede con l'apple watch che alla fine basta semplicemente metterlo vicino e non non fa altro che trovarlo e in automatico si sincronizza questo ricordo è il samsung galaxy watch 6 quindi l'ultimo sta riavviando vediamo se una volta è riavviato io come son widget delle percettuali batteria questo è la pixel watch questo il telefono poi ci sono altri due tondini dove potrebbero esserci altre batterie se avete visto il mio video precedente ho da poco provato il galaxy ma smart tag purtroppo la batteria qua non appare sarebbe stato bello apparisse anche la batteria del martag di samsung questo che anche un widget si sta riavviando eccolo qua che apparso fantastico connetti consenti e ormai samsung è proprio conferma conferma è proprio stile apple è uguale tutto il suo ecosistema che va in maniera perfetta sincronizzata basta accendere un suo dispositivo che se l'orologio e il telefono vicini gli si positivi i dispositivi vicini si connettono subito l'ecosistema samsung ormai ha veramente raggiunto dei livelli che io adesso che sono un apple fan perdonatemi il termine lo so ho sempre avuto dispositivi apple se li ho provati un po tutti in realtà però poi sono sempre tornato ad iphone da qualche giorno sono passato all'auto oscuro e sto usando questo s 23 però non ho preso il 24 e vi dico anche il motivo non l'ho ancora neanche provato io personalmente il 24 ma non l'ho preso perché non amo i dispositivi enormi ok cosa vuol dire cosa vuol dire che con il 24 per avere dispositivi piccoli come questo devi avere l'exinox e non lo snapdragon io l'exinox non lo voglio voglio come processo di uno snapdragon che funziona a mio avviso meglio anche per la durata della batteria questo è l's23 piccolo usato sempre grazie ai miei amici di second hand mobile style carcelo quindi con batteria non nuova e mi dura una giornata intera con il mio utilizzo anche stress tranquillamente mi arriva a sera sugli s24 ne ho lette di ogni sola batteria l'ultra certo l'ultra la snapdragon l'ultra sicuramente dura di più l'ultra sicuramente ha tante efficiose in più la 24 dico anche la 23 ma quest'anno io sinceramente non vedo non vedo la necessità non vedo quel balzo che possa far scegliere di prendere la 24 per quello sto usando l's23 con gran soddisfazione sono sincero con gran soddisfazione sia fotografico reparto fotografico che velocità questa è la versione 328 non da 256 quindi le memorie più lente non ha le memorie con le più veloci delle 256 però io non ho mai avuto un lag un rallentamento va che è una meraviglia tanto che ho fatto questo pippone su perché non ho più una e non sto usando un iphone ma sto usando un android si sta continuando la configurazione stanno andando avanti tac accelerato l'improvviso velocissimo recupero le informazioni del mio account vi diciamo con il mio account il pin è l'impronta digitale tutto perfettamente sincronizzato tutto perfettamente funzionante veramente un plauso a samsung per i livelli della velocità e qualità di sincronizzazione dei prodotti perché veramente io lo so forse uno dice perché sempre fare paragoni con iphone perché iphone come ecosistema per ora è sempre stato il migliore è il migliore per i suoi prodotti tutti perfettamente funzionanti uno con l'altro in maniera incredibile e impeccabile samsung con un sistema operativo android per carità però si sta avvicinando direi che praticamente ormai non c'è quasi più differenza e mi trovo infatti molto bene anzi alcuni prodotti sono pure migliori perché il galaxy smart tag 2 secondo me è migliore della tag perché ha delle funzioni in più non ha soltanto la localizzazione ma anche la possibilità di unire delle routine al pulsante del tag del smart tag che si preme quindi ha migliorato addirittura secondo me il livello dell'ecosistema sa dell'ecosistema apple è tutto pronto eccoci qua è tutto pronto perfetto qua ci dice la batteria ci fa scaricare applicazioni samsung health monitor perfetto poi cosa ci fa scopri come utilizzare al meglio non ora orologi e quadranti a che belli questo quadrante facile divertenti ce ne sono veramente tantissimi ottimo ottimo tutti gratuiti benissimo poi vabbè io metterò uno con più informazioni perché mi piace tipo questo questo qua c'è uno che mi piace molto bello 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 vabbè lo proverò lo proverò vedrò come mi trovo e poi vi porterò la mie impressioni in merito a questo orologio qua facciamo un breve tour attivazione dell'orologio pensa esplora l'orologio avvia trascina verso il basso tac centro notifiche centro widget rapidi trascina verso l'alto ricerca delle applicazioni trascina verso l'alto 4 che hanno tutte le applicazioni trascina verso il basso per uscire avanti verifica le notifiche si deve trascinare verso destra suggerimenti tap e ti apre le notifiche trascina indietro e si esce dalle notifiche qua e si esce dalle notifiche avanti informazioni riquadri attività premi il pulsante e torni indietro finito lo andremo poi a vedere bene nel dettaglio prossimamente lo provo lo tengo un po al polso e vi porterò le mie considerazioni grazie e un prossimo video grazie a tutti